C'è qualcun altro che deve fare? Sì, perché ha chiesto di intervenire a scarteggia. Se ci dà un momento, se ci dà un momento consiglierlo, prego, prego, consiglio di scarteggia. Allora, in località Valle Marciana alcuni cittadini ci hanno segnalato lo spezzamento di fanghi provenienti a monte, praticamente dal depuratore, nel canale di scorto. Poi siamo molto preoccupati, oltre a questo, per la situazione dei primi in via Cassani. Non aspettiamo che succeda qualcosa di gravoso prima di intervenire, quindi cerchiamo di intervenire il prima possibile, perché in quella zona è frequentata da bambini, passano per la scuola calci. Correndo l'altra settimana ho visto con i miei occhi una parte di un vino notevolmente pesante. Fortunatamente non è passato nessuno in quel momento, poteva succedere qualcosa di veramente grave. Inoltre segnaliamo di fronte al barco di Squarcerelli, qui io non voglio inferire un momento di difficoltà nei confronti delle attività commerciali, perché anch'io sono un commerciante, però riteniamo che il chiosco di fronte al barco di Squarcerelli in questo momento occupi una zona notevolmente più vasta, credo, di quello che dovrebbe. C'è un camion praticamente che è il prolungamento del banco etica, ci sono delle tasse che stazionano davanti all'entrata, quindi cortesemente un occhio anche lì. Grazie.